Ciao adorabili amici, continuano a uscire spoiler a manetta per Zendikar e quindi si continua a fare delle sgarbatissime analisi delle nuove carte. Come sempre questa tipologia di video è una chiacchierata fra me e voi, non posso prevedere il futuro, quindi stiamo un po' speculando sulle nuove carte. E come sempre datemi feedback, quindi, nei commenti, sono sempre curiosissimo di sapere la vostra opinione, magari io mi perdo qualche sinergia spicy e quindi si crea un bel dialogo. Detto questo, oggi ci concentriamo su queste nuove carte modali che si portano appresso le terre dietro, sul retro della carta. Ora, solitamente in queste review considero principalmente le rare le mitiche, ma per il discorso che sto per fare, secondo me può essere comodo anche vedere carte non comuni come Balagued Recovery. Questa sorcery che costa 3, di cui uno verde, dice, fai tornare una carta dal tuo cimitero alla tua mano. E il suo retro è questa terra che entra nel campo di battaglia tappata. Faccio vedere un'altra non comune, sempre secondo me molto interessante, cioè Sheijiri Shelter, istantaneo che costa 2, di cui uno bianco. Dice, una creatura che controlla e guadagna protezione da un colore di tua scelta fino alla fine del turno. Nel retro, una bella terra tappata e ancora una non comune, Spike Field Hazard. Costa 1, rosso, istantaneo, infligge un danno a un qualsiasi bersaglio. Se un permanente a cui è stato inflitto danno in questo modo dovrebbe morire in questo turno, esilialo invece. E dietro c'ha una terra tappata, che entra in gioco tappata rossa. Queste carte, questa meccanica delle carte che si portano dietro una terra tappata, secondo me è fuori di testa e non va assolutamente... non va sottovalutata. Non dico sia una rivoluzione come per i Companion, ma è da tenere d'occhio. Tutti ne parlano, tutti... molti sono critici, altri sono fin troppo entusiasti. Io mi voglio posizionare neutro su questa meccanica, non voglio azzardare nulla come feci per i Companion. Non lo so. Concettualmente mi piacciono un sacco, perché comunque per una tipologia di deck midrange, avere la possibilità di sostituire una terra base, ad esempio, nei formati un pochino più lenti, come può essere lo standard. Sostituire una terra base con una spell, che quando ti serve diventa una terra. Quando non ti serve in late, invece è una spell che comunque ti fa riprendere una carta dal cimitero. Questa cosa è interessante a livello di deck building, perché è interessante capire come si evolverebbe la mana base e lo split delle... ci sono anche creature, quindi anche della curva e delle magie. È una cosa nuova, è una cosa figa, anche perché non riguarda solo i mazzi control o solo i mazzi midrange, che appunto magari questa tipologia di archetipi riescono a permettersi una terra che entra in gioco tappata, soprattutto in formati non velocissimi, come potenzialmente potrebbe essere standard, con un power level che sembra essersi leggermente ridotto ad oggi. Ad oggi, poi magari usciranno degli spoiler fuori di testa e cambierò idea. Ma ha del potenziale anche per aggro. Perché? Ovvio che, se noi prendiamo mono white, white weenie, ok? Ovvio che è un deck che vuole scurvare, cioè vuole fare drop a 1, turno a 1, doppio drop a 1 a turno 2, a turno 3 giocare un payoff, concettualmente questa è la meccanica di white weenie, payoff che può essere più 1 più 1 alle tue creature. Ma questo va considerato, ad esempio, in game 1. Se sei contro un deck ipergrindoso e control, perché non provare post side sostituire una terra per giocare una spell in più? Magari se sei sulla draw? È interessante. Poi, lo so, riceverò gli insulti di tutti per questa cosa che magari può sembrare una bestemmia, ma c'è il potenziale per fare delle giocate interessanti. Bisogna capire anche, appunto, la gestione della mana base, in questo caso. Cioè, magari in un white weenie non giochi questa carta in main, perché non ne giustifica il power level, ma post side, in particolare sulla draw, sostituisci una terra e hai una magia che protegge una tua creatura contro, appunto, i matchup più grindosi. E non vai a togliere nulla della tua main board, perché sostituisci una terra base. Ora, questa carta può sembrare eccessivo, il mio discorso, ma considerate, ad esempio, questo Hazard, che va a esiliare Uro, tra l'altro. Un mazzo monorosso. È vero che ha una curva... È vero che ha una mana base, come dire, molto stringata, perché giochi poche terre in quella tipologia di aggro, con una curva molto bassa. Ma potrebbe cambiare qualcosa, poter giocare una risposta così forte contro, ad esempio, una carta che ha del potenziale per essere metadefining come Uro. Ora, ribadisco, mi meriterò tutti i vostri insulti per quello che ho detto, però mi piace questa possibilità in più che dai non solo a... che dai a tutte le... gli archetipi. E qua stiamo parlando di comuni... di non comuni. Se noi parliamo di questa carta, le cose diventano ancora più spicy. Emeria Skull costa sette, di cui tre bianchi e una sorcery, mette in gioco due token 4-4 angeli guerrieri con volare. Le creature non angeli che controlli guadagnano indistruttibile fino alla fine del tuo prossimo... Sì, al final, alla fine del tuo prossimo turno. E dietro si porta Emeria Shattered Skyclave. Quando lo Skyclave entra nel campo di battaglia puoi pagare 3 punti vita. Se non lo fai, entra in gioco tappato e ti dà un mana bianco. Qua hai un finisher, o potenziale finisher, e una terra che entra in gioco stappata al costo di 3 punti vita. E, lo ribadisco per la... Sono due anni che faccio YouTube, lo avrò detto diecimila volte, i punti vita sono una risorsa in Magic. In un mondo dove giochiamo dalle 8 alle 12 Shockland, in diversi archetipi, 3 punti vita si potrebbero pagare per una upside, secondo me, molto interessante. E ma paghi 3 punti vita contro aggro? Ok, un mazzo che si permette di giocare questa carta, in particolare in standard, la gioca tappata contro aggro. Perché cosa fai con le Shockland? Quei è mezza provocazione. Però non vanno, secondo me, sottovalutate queste nuove terre. E, personalmente, a me che piace più l'esperienza di deck building in Magic, non vedo l'ora di provarle. Almeno provarle. Cioè, i commenti che non apprezzo sono quelli... No, fa cagare! No, fa schifo! Va bene, te, competitor del Pro Tour, via dal mio canale! Qua siamo per sperimentare, per provare cose nuove, per emozionarci un po' con gli spoiler, dai! Però, a livello competitive, non mi stupirebbe, se anche questa carta vedesse gioco. Per non parlare di Shutter School Smashing, costa X, due rossi, sorcery, infligge X danni, divisi a tua scelta, fino a due creature e o planeswalker. Se X è 6 o più, infligge il doppio di X. e dietro ha la terra rossa che appunto entra in gioco stappata se paghi tre punti vita. Altra carta super versatile, una terra che si porta presso un removal o un removal che ti aiuta eventualmente se non stai pescando terre. Questa versatilità, non so, forse la esagero io. Poi tra l'altro ha il costo di tre punti vita, che è un costo che puoi anche pagare nell'economia di Magic. Forse sono io che la prendo troppo bene, ma questo secondo me può essere game changing. Questo per me può essere game changing. In particolare queste due mitiche. Perché mai un mazzo rosso non dovrebbe giocare questa rimozione. Perché tanto se sei contro control, beh, planeswalker li becchi pure. Ma se non hai bisogno della rimozione, hai bisogno di scurvare per giocare il tuo drop a 4, turno 3 giochi questa terra tappata se vuoi. O a turno 4 la giochi stappata. È un buon eventualmente top deck perché hai rimozione e non puoi floddare. Cioè puoi comunque floddare. Però riduce il feels bad di Magic legato alla meccanica delle terre. Questo è tra l'altro ha annunciato Maro che questa tipologia di carte continuerà anche con i futuri due set legali in standard. Non dico sia una rivoluzione come Companion. Però siamo lì, eh. Siamo lì. Questo lo dico io, ma... Non mi stupirebbe vedere un Mono White che gioca questa. Post side. Fai delle cose molto fighe. Cambia un po' la gestione della curva. Cambia tutto. E per ora sembrano anche bilanciate come carte. Perché se qua ci fosse una spell fuori di testa con questa terra qua romperebbe Magic. E per ora abbiamo visto la mitica bianca e quella rossa che mi risultano bilanciate e quindi molto interessanti. Diciamo che è un set che si sta muovendo verso la strada della versatilità delle carte cosa che io apprezzo moltissimo e sembra bilanciato. Vediamo Angel of Destiny. Costa 5 di cui 2 bianchi, 2,6 volare, doppio attacco. Ogni qualvolta una creatura che controlla infligge danno da combattimento a un giocatore tu e quel giocatore guadagnate quella montare di punti vita. All'inizio della tua end step se hai 15 punti in vita in più rispetto alla tua vita totale sì, starting life point perdonatemi la traduzione ogni giocatore che l'Angel of Destiny ha attaccato questo turno perde la partita. Allora Winkon alternativa per i mazzi life gain sicuramente spicy macchinosa perché ha questa abilità statica che è vero che ti fa guadagnare punti vita ma è come se annullasse i danni da combat in un... ad esempio in historica hai a Gianni Pride Mate che attacca ciccionissimo cosa fai? Dici no a Gianni Pride Mate attacca ciccionissimo ma non voglio vincere se non attaccando con l'Angel of Destiny ovviamente è un archetipo interessante per historic in standard ancora qualche arma per life gain ce l'abbiamo e spicy non è game changing come le terre però sicuramente è un design interessante tutte le Winkon alternative hanno sempre la mia attenzione quindi sono curioso di vedere cosa si potrà fare con l'Angel of Destiny ma passiamo a Zagras Thief of Heartbeats costa 6 4-4 costa 1 in meno per ogni creatura nel tuo party volare death touch e rapidità le altre creature che controlli hanno death touch e ogni quel volto una creatura che controlli infligge danno da combattimento a un planeswalker distruggi quel planeswalker quindi dal death touch dai planeswalker questo Zagras figo questo è un buon payoff per parti è abbastanza secondo me no ma sicuramente ci stiamo avvicinando a qualcosa di spicy detto questo si porta appresso la due tipologie di creatura rilevanti vampiri e rog quindi vampirico rosso e ambizioso per commander un po' meno almeno ambizioso per quel che riguarda standard e historic dipende sempre tanto da quante altre creature fighe e comparti vedremo nel nel corso degli spoiler il death touch per i planeswalker è tanta roba il problema qual è è che no non c'è lui ogni qualvolta una creatura che controlli infligge danni da combattimento cioè lui dice le altre creature che controlli hanno death touch lui può attaccare il planeswalker e ammazzarlo essendo un 4-4 volare haste è fattibile non è questinguist però è sicuramente una rara interessante per gli amanti del party bene poi abbiamo inscription of abundance abundance non riuscirò mai a pronunciarlo costa uno verde istantaneo a kicker che con costo 3 di cui uno verde scegli uno se è stato kickato invece scegli un qualsiasi numero possiamo dare più due due segnalini più uno più uno su una creatura un giocatore guadagna x punti vita dove x è il potere più altro fra le creature che quel giocatore controlla una creatura che controlli combatte con una creatura che non controlli interessante mi piacciono molto a me queste carte modali non è la prima che vediamo o che vedremo nel corso degli spoiler per il verde funziona da rimozione se non hai nulla da rimuovere puoi mettere segnalini o guadagnare punti vita tutte le volte che vedo così tanta versatilità in una carta di magic io sono contento il fatto che sia istantaneo quindi può funzionare da combat trick o da removal a velocità istantanea la rende molto interessante come carta quindi approvata vediamo ora il relic robber questo 2-2 costa 3 è un goblin rog ha rapidità e dice ogni qualvolta infligge danno da combattimento a un giocatore quel giocatore crea un token 0-1 creatura artefatto goblin costrutto madonna complessissimo che dice questa creatura non può bloccare e all'inizio del tuo upkeep questa creatura infligge un danno ti infligge un danno quindi riempiamo la board di 0-1 che infliggeranno danno ogni upkeep all'avversario questo nel mondo ideale dei goblin dove domina il caos e dove gli avversari non hanno bloccanti perché il fatto che richieda di infliggere danno a un giocatore me la rende meno interessante ha sicuramente il potenziale contro control perché appunto control se non ha modo di interagirci in particolare sulla play se noi lo giochiamo terzo turno in curva sulla play l'avversario magari non ha rimozione gli mettiamo subito già a partire dall'inizio una creatura che tutte le volte gli infligge danno ma contro control probabilmente giocheremo contro vratte ed essendo il token una creatura muore da vratta che giocherà all'avversario quindi non posso essere entusiasta di questo goblin però anche qui è un design interessante magari la sto sottovalutando magari il meta sarà avrà darà spazio a questo goblin di fare danni perché ribadisco se giocato sulla play in curva di terzo se riusciamo a mettere tante creature all'avversario sono parecchi danni me lo vedo come la copia brutta di del legionario boros di cui non mi ricordo nome il goblin che mette il goblin 1-1 attaccante crawling barrens terra in colore tappiamo aggiunge un mana in colore paghiamo 4 e mette due segnalini più 1-1 sulla crawling barrens puoi far sì che questa terra diventi un elementare 0-0 fino alla fine del turno e ancora una terra la cosa fighissima è questo puoi trasformarle in uno 0-0 perché in questo modo hai la possibilità di caricarla cioè paghi 4 metti due segnalini più 1-1 ma è sempre una terra non è diventata una creatura non è soggetta a rimozioni e poi tutte le volte la potenzi pian piano poi giri con un giga creaturone compete nei mazzi control con il castello bianco ma visto che le nuove terre doppie non sono basiche cioè non sono pianure o isole quindi il castello entrerebbe in gioco tappato magari potrebbe prendere il posto di castello non è ovviamente mutavolt ma sicuramente è una carta che ha del potenziale in particolare secondo me in standard magari anche in historic bisogna vedere se spodesterà il castello bianco però sicuramente è da tenere d'occhio vediamo ora una carta bianca interessantissima l'arcon of emerya costa 3 di cui 1 bianco è un 2-3 volante e dice ogni giocatore non può giocare più di una spell ogni turno le terre non basiche che i tuoi avversari controllano entrano nel gioco tappate sembra leidalon bianco mi piace un casino questa carta è amica di collected company quindi è amica del mio amato mazzo spiriti bant per historic che cito sempre in questi spoiler perché c'ho sto grill tra l'altro rallenta gli avversari rallenta anche noi perché possiamo fare una spell al turno ma ad esempio in spiriti probabilmente è fattibile questa cosa cioè non limita più l'avversario che noi bella carta da hate bella carta anche per i formati più vecchi da testare mi piace un casino ed è un'ottima arma per il bianco mi piace anche un casino il fatto che sia simmetrica su questa parte qui cioè quindi che entrambi tutti i giocatori non possono giocare più di una spell al turno ma non è simmetrica per le terre non basiche dell'avversario questa è uno step interessante su questa tipologia di carte da hate mi piace e sicuramente 2-3 a costo 3 volante è anche un buon rate body e costo di mana quindi ottima carta bianca che monitorerò sicuro e che testerò sicuramente piace parecchio vediamo ora esplorazione di valakut incantesimo che costa 3 di cui 1 rosso all'handfall ogni qualvolta una terra entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo esilia la prima carta del tuo grimorio puoi giocare quella carta fin tanto che rimane esiliata all'inizio della tua sottofase finale se ci sono carte esiliate con l'esplorazione di valakut mettile nel cemitero del loro proprietario poi l'esplorazione infligge altrettanti danni a ogni avversario quindi la carta esiliata rimane fino alla end step mettendole al cemitero quindi non lasciandole esiliate è uno di quegli incantesimi rossi da value interessanti mi piace un botto mi piace un botto ci sono diverse sinergie ad esempio anche nei formati eternal costo 3 è tanto quindi nei formati con le fetch costo 3 è tanto ma sicuramente è un'arma in più per i mazzi con il rosso per fare value per i mazzi aggressivi potrebbe sostituire in standard la frenzy non è difficile attivare terraferma perché tanto le terre le peschiamo e le giochiamo e il fatto che se non giochi la carta esiliata comunque mette pressione perché infligge i danni per ogni carta che abbiamo esiliato con landfall riprende totalmente il tema del rosso dell'aggressione e del value non immediato ma un pochino macchinoso che mi piace quindi un bel l'incantesimo per il rosso vediamo poi una bellissima carta blu seagate storm collar costa 2 di cui 1 blu a kicker che costa 5 di cui 1 blu e un 2-1 wizard quando entra nel campo di battaglia copia il prossimo istantaneo o stregoneria con costo di mana pari a 2 o inferiore che vabbè copialo quando lo casti se è stata chiccata copia quella spell due volte invece e puoi scegliere nuove target in historic duress nei formati eterni lightning bolt non è snapcaster mage perché comunque ti richiede di essere più proattivo cioè snapcaster mage avendo flash lo puoi giocare in maniera reattiva invece questo devi farlo nel tuo turno e giocare la spell nel tuo turno però ci sono un sacco di spell a 2 parecchio forti anche in standard quindi secondo me potrebbe vedere il gioco anche in standard è molto interessante per historic è una di quelle carte con quel design che è bilanciato ma molto figo e potenzialmente con un power level alto ha bisogno di deck building per ha dei vincoli di deck building per effettivamente essere efficace il kicker è un po' troppo ma se giocato in un mazzo grindoso potrebbe anche aver senso raddoppiare le spell ora in historic non abbiamo lightning bolt ma come vi dicevo abbiamo duress abbiamo tante spell a 1 che vogliamo giocare prendete il rakdos con il young pyromancer questa carta dove ha tutte le carte con costo di mana 1 o molto basso una curva molto bassa e spell molto basse questa carta sinergizza con il dread horde arcanist quel deck potrebbe iniziare a giocare il blu per avere anche opt opt che attivi due volte cioè tu per tre mana giochi un 2-1 quindi che lascia il body giù che ti fa pescare le due carte più lo scry di opt ovviamente hai giocato due spell per ottenere questo effetto ma sinergizza appunto con una serie di altre carte che sta trovando spazio in historic anche col draghetto che prende segnalini ogni qual volta lancia una magia è molto interessante come carta e ha quel power level che può essere alto nella giusta tipologia di deck quindi è una mitica blu assolutamente da tenere d'occhio l'altra cosa interessante è ovviamente la sinergia con kicker abbiamo visto altri mazzi scusate altri mazzi abbiamo visto altre carte wizard maghi che sinergizzano con kicker questa potrebbe essere il grosso payoff per quel mazzo potrebbe essere il grosso la stella ecco non mi veniva il termine la stella di quel deck mi piace mi piace io la provo tutta la vita c'è sempre il problema che tutte le volte in cui esce una carta blu mitica la gente ha paura di perdersi la carta forte del set e quindi tende a valutarla troppo bene un po' di questa paura ce l'ho è bilanciata dal fatto che non ha flashback in un mazzo come ad esempio un grixis control che vuole giocare in maniera proattiva quindi un control tapped out che non gioca appunto nel turno dell'avversario questa potrebbe trovare spazio magari anche nei formati un pochino più vecchi bellissima carta comunque mi piace un casino e secondo me anche molto molto divertente da giocare yashran relentres land ce l'ho fatta creatura leggendaria elementale cinghiale costa 4 di cui uno verde e uno bianco quando entra nel campo di battaglia cerca nel tuo mazzo una terra foresta base e una pianura base e mettili nella tua mano i giocatori non possono pagare vita o sacrificare permanenti non terra per lanciare carte o usare abilità attivate premessa è un commander che quando entra in gioco ti va a prendere le terre che ti servono per pagare la tassa da comandante quindi questo è già un plus ha una sinergia fighissima con il terror of the peaks e carta che secondo me potrebbe dare una bella spinta a un naya ben naya aggressive perché ha questa protezione da abilità e altro che ci piace interessante design interessante potrebbe vedere il gioco come potrebbe sparire nel dimenticatoio in brevissimo tempo è lì al limite il buon cinghialone è difficile anche da valutare perché ha questa questione un po' metagame però può essere anche un commander interessante per chi vuole fare il mazzo cinghiale a proposito di cinghialoni questo è un bestione cragbound balot costa 7 6-6 a kicker che costa 2 di cui 1 verde non può essere counterato a x proof a ace se è stato kickato metti 4 segnalini più 1 più 1 su di esso quando entra nel campo di battaglia questa è la carta e il sogno di tutti i giocatori di monogreen i giocatori di monogreen che non amano i giocatori di control è una cosa abbastanza risaputa e un'altra carta del verde con x proof carta sgarbatissima praticamente inarrestabile quello che la rende bilanciata è il fatto che può essere champ bloccata non avendo trample però in standard abbiamo un simpatico incantesimo che dà trample alle nostre creature e quindi può vedere secondo me vedrà sicuramente il gioco in sideboard per quello che riguarda lo standard e sicuramente 7 è proprio un po' nutella è un po' nutella 7 mana è un tantino in sideboard è carina poi 10 10 10 è il sogno dei teamies i teamies sono qua già che dicono è da bannare me lo sento già me lo sento che sono lì e no è troppo forte però è bella carta bella carta mi piace prossima inscription of ruin altra carta con le possibilità di scegliere una o più opzioni se la chicchiamo costa 3 di cui uno nero a kicker a 4 di cui due neri e dice scegli uno se è stata chiccata scegli un qualsiasi numero invece e le scelte sono belle piccanti un avversario scarta due carte fai tornare una creatura con costa di mana pari a 2 o inferiore dal tuo cimitero al campo di battaglia oppure distrugge una creatura con costa di mana 3 o inferiore parlavamo prima del rakdos midrange di historic tra l'altro rakdos midrange che esiste anche in modern e pioneer per quel che riguarda modern non mi esprimo e neanche in realtà per pioneer per quel che riguarda invece historic questa carta ha un sacco di senso questa carta è fighissima puoi far scartare e puoi giocare croxa per fare mettere ancora più pressione alla mano dell'avversario se l'avversario è un aggro puoi distruggere una creatura che magari potrebbe ucciderti prima che tu riesci a stabilizzare la board fa tornare in gioco i nostri payoff quindi l'arcanist o lo young pyromancer appena l'ho vista ho pensato a quel deck avere carte che hanno più opzioni forti non è affatto male io ho molto hype per questo inscription of ruin ovviamente il kicker è costosissimo e non so bene è un po' situazionale nel senso che se noi paghiamo sette mana quando mai vogliamo far scartare due carte all'avversario quando siamo così in late oddio contro control potrebbe starci però sono mi piace più per il fatto che per tre mana facciamo tre effetti che hanno un senso in un archet in diversi archetipi perché magari anche mono nero decide di giocare questa carta e soprattutto in game one avere tutta questa versatilità è tantissima roba avere più opzioni sempre forti con diversi match up mi piace un sacco questa sorcery mi piace un casino un casino infine ultima carta che vediamo oggi è t t t skydiver difficilissimo il th da pronunciare merfolk rog costa due di cui uno blu e un 2-1 volante a kicker x dove x non può essere zero quando entra nel campo di battaglia se è stato chiccato guadagna il controllo di un artefatto con costo di mana x o inferiore se quell'artefatto è un equipaggiamento attaccalo allo skydiver tantissima roba questa carta in commander rubi soul ring in modern hai contro i mazzi tribali gli rubi fiala se sei tritone giocata sgarbatissima è questa e in generale anche hate dà equipaggiamenti puoi fare cose spicy puoi metterle in gioco e equipaggiare il martellone e tra l'altro aggiavolare quindi questo è molto molto spicy è un modo per fregare eventuali mazzi basati sugli equipaggiamenti fa un sacco di cose sgarbate questa carta fighissima mi piace un casino bene direi che per oggi è tutto continuiamo domani con l'analisi degli spoiler e continua a essere un set interessante spero di avervi convinto sulle terre secondo me hanno un potenziale enorme dobbiamo vedere le prossime terre spoilerate negli altri colori e poi valuteremo a fine set come sempre se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere like lasciatemi un commento fatemi sapere cosa ne pensate di questo set se non siete ancora iscritti iscrivetevi per altri contenuti su magic e su magic arena e noi ci rivediamo domani con un'altra bella analisi degli spoiler per Grazie a tutti.